Siamo qui al termine di Sorelle Ramonda Ipag, Montecchio Maggiore, Bazzocini, Gioielleri e Perugia. Vince Perugia 3-1 e chiediamo al mister Volpini un commento su questa reazione che c'è stata dopo i primi due parziali un po' in difficoltà. Siamo contenti che la reazione è arrivata a questa partita, siamo partiti un po' sotto tono, poi siamo riusciti a girare la formazione e a mettere in difficoltà una squadra comunque con dei nomi importanti. Dalla prossima partita speriamo di partire da subito perché arriviamo da tre sconfitte ed è giunta l'ora di mettere un po' di punti in classifica. Abbiamo visto una classifica molto strana, di giudati molto strani in queste prime partite, Sassuolo da matricola che continua a vincere anche questa sera, Ravenna sicuramente che nella prossima partita sarà uno sconto importante per noi. Sì, il campionato sarà bello perché comunque siamo tutti sullo stesso livello, non c'è nessuno di basso livello e quindi per noi ce la giochiamo con tutte le squadre del campionato. Bisogna riuscire a mettere dei punti fermi nel nostro gioco, però sicuramente arriveranno i risultati perché le ragazze si stanno allenando bene, di qualità e quindi noi siamo qua che aspettiamo il gioco e i risultati. Bene, ringraziamo Mr. Olpini e lasciamo pensare già alla prossima partita. Un ringraziamento a tutti, alla società che mi ha dato questa opportunità di essere primo allenatore in queste prime tre partite, che non è un'esperienza molto importante, è stata molto costruttiva, molto significativa per la mia carriera e ora aspettiamo tutti Ale Beltrami e andremo avanti insieme a lui. Bene, in bocca al lupo, ci rivediamo il primo di novembre qui al Palacollodi. Tutti al Colodi per vedere la partita, ciao!